Musica Allora iniziamo con questo, una serie di video dedicati alla risoluzione di diseguazioni esponenziali. Come vedete questi primi esempi sono abbastanza semplici. Una diseguazione esponenziale è tale se l'incognita appare ad esponente di una potenza. Vediamo il primo esempio. Per il primo esempio abbiamo, naturalmente questi due numeri ci devono subito far pensare a qualcosa per cui si possa trasformare quelle due basi. Quindi a primo membro abbiamo che 9 è uguale a 3 al quadrato, quindi possiamo scrivere 3 al quadrato elevato a 2x. Minore 27 è 3 al cubo, 3 alla terza. Che riscritto moltiplicando gli esponenti, visto che si tratta di una potenza di potenza, prende la forma di 3 elevato a 4x minore di 3 elevato a 3. A questo punto abbiamo due potenze con la stessa base e affinché la prima sia minore dell'altra è sufficiente che l'esponente della prima sia minore dell'esponente della seconda. E quindi x minore di 3 quarti. Abbastanza semplice. Questa seconda disequazione ha come basi due basi diverse e non riconducibili ad una stessa base. 5 possiamo dirlo come 5 elevato ad 1. Quindi l'unica cosa da fare è provare a distrarre il logaritmo da tutti e due i membri e vedere cosa succede. Usiamo come base 2 e quindi il primo membro diventa logaritmo in base 2 di 2 elevato a 2x maggiore del logaritmo in base 2 di 5. A questo punto per una proprietà nota dei logaritmi possiamo scrivere al primo membro 2x che moltiplica il logaritmo in base 2 di 2 maggiore del logaritmo in base 2 di 5. E quindi visto che il logaritmo in base 2 di 2 è 1 in definitiva x uguale e x maggiore del di un mezzo per il logaritmo in base 2 di 5. Ora se volessimo trovare quanto vale il logaritmo in base 2 di 5 avremo delle difficoltà in quanto non tutte le calcolatrici possono eseguire logaritmi in base diverse da quelle 10 o base e. Si può effettuare una trasformazione e quindi scrivere che x è maggiore e trasformiamo in una base per esempio 10 che è disponibile come calcolo nelle normali calcolatrici tascabili e quindi x maggiore di linea di frazione logaritmo in base 10 di 5 fratto 2 volte il logaritmo in base 10 di 2. Io l'ho calcolato e questo valore è circa approssimato alla terza cifra decimale 1,161 Vediamo il terzo esempio Il terzo è un esponenziale con base al primo membro il numero naturale e e come esponente un trinomio di terzo grado in cui compare anche una lettera a come parametro A secondo membro l'uno lo possiamo scrivere come e alla 0 e a questo punto visto che abbiamo diciamo come base di entrambi gli esponenziali lo stesso numero che è il numero naturale di Nepero e possiamo confrontare gli esponenti e affinché e elevato a x quadro meno 2ax meno x più a al quadrato più a sia maggiore di e alla 0 basta che il trinomio sia maggiore di 0 e scrivere che x al quadrato metto in evidenza raccolgo a fattore comune meno x e lo scrivo in questo modo meno 1 per x più a al quadrato più a maggiore di 0 ora si tratta di risolvere questa disequazione di secondo grado cerchiamo il delta del trinomio associato al primo membro e questo è 2a meno 1 al quadrato meno 4a al quadrato meno 4a cioè 4a al quadrato meno il doppio prodotto fra il primo e il secondo quindi scusate qui c'è un errore è un più 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 4 più 1 meno 4a al quadrato meno 4a 4a al quadrato meno 4a al quadrato è 0 4a meno 4a è 0 e quindi il delta è uguale a 1 le radici di questo trinomio sono x 1,2 uguale 2 a più 1 più meno 1 fratto 2 la prima è 2a più 1 meno 1 fratto 2 quindi è a e la seconda è 2a più 1 più 1 quindi 2a più 2 fratto 2 a più 1 a questo punto dobbiamo vedere al variare del parametro a esattamente nel passaggio da positivo a negativo se c'è una variazione dell'ordine delle radici di questo trinomio qui non c'è nessuna variazione perché sia che a sia positivo che negativo la seconda radice sarà sempre maggiore della prima visto che è maggiorata di 1 quindi non faccio il grafico perché è banale il coefficiente di x al quadrato è positivo quindi la regola ci dice che quel trinomio è positivo per x minore di a e x maggiore di a più 1 quindi come soluzioni della nostra disequazione di partenza abbiamo queste condizioni qua ciao a tutti e alla prossima ciao a tutti